Ma che stai a fare là sotto? 3, 2, 1 Oh Luke, Luke, dove sei tu Luke? Sono qua, tia 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 Sono sotto di te Quanto tempo, mi manchi Dov'è il tuo babbo? È a Natale No, io ho preso la renna Lanciami la treccia che vengo a darti un bacino Tieni, l'ho appena sfornata No, come è lunga L'hai visto? È solo per te Potete anche tirare qualcosa Ma cos'è questo schifo? Ma stavo recitando Dai, non ci rovinate la scena Non ci rovinate la scena Attori falliti Basta, ok Sono andata, schifo Ma è orribile Dai, vabbè, potete lanciare qualcosa Io lo taglio Io lo tengo, io lo tengo Dai, ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi Sono Luke E benvenuti in un nuovo video Della Grarian Sky Ciao a tutti ragazzi E bella a tutti Sono Chip E benvenuti in questo nuovo video Ma che Chip Ma che Chip? Oh Io ho stoppato Xander capisce sempre tutto Weewee E tu sei Joe No, Chip Weewee No, Chip Ma Chip Ma ragazzi Ci sono i 5 Xander limita Joe Dai Ah ok Però a giro Aspetta, ma Joe come fa? Aspetta, come fa Joe? Io faccio Tia Non ti preoccupare No, no Eh Eh che ne so Inventate Come la invito Joe? Non segue proprio un cazzo di video No, no Che stronza Ciao a tutti ragazzi Sono Luke E benvenuti in un nuovo video Siamo oggi in un nuovo episodio Della Grarian Sky Ciao a tutti ragazzi Sono Joe E benvenuti in questo nuovo video Di Grarian Sky Ciao a tutti ragazzi Sono TABF E benvenuti in un nuovo video Della Brrrr Ok Ciao a tutti ragazzi Sono Xander E benvenuti in questo nuovissimo video Della Grarian Sky Ma voi scendete qui così Ehi Bella a tutti ragazzi Sono Chip No, no Di Allora È bella a tutti ragazzi Tu starti sempre con Ehi Ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Della Brrrr E' bella a tutti No ragazzi Che facciamo? Intanto grazie mille Per i numeresi Numeresi Poi recensione Nell'ultimo episodio Numeresi Numeresi Allora Ci avete detto Stradetto e stradrotto i maroni Che qua c'è un Autonomous Al contrario Ragazzi Ma manco li abbiamo montati ancora Li abbiamo solamente appoggiati Cioè Scusate Ma a parte tutto che io non lo vedo Questo Autonomous Ok Allora È questo qui Un ranch Ora Xander Apprestate a girare con lo storto Ok Tu che hai la ranch E ragazzi Possiamo ponere Ponere i tubi sotto Già Vai Allora Xander C'è una foglia a mettere tutti i rossi? Tutti i rossi Che senso? Sapete che il rosso è l'estrazione Ok Se noi andiamo qua Ok Xander E dobbiamo mettere il blu Non ho scopito Aspetta non ho capito Allora Il rosso sotto Ditemi quando esce il rosso sotto E fuori Che non so qual è Però c'è il tubo Non si vede Doresti vedere No si vede Si vede Si vede No non si vede ragazzi Tollete il tubo Tollete il tubo Eh tu dietro Ranch Ranch Xander Arrivata Arrivata Ranch Tutti Raga ho fatto io Ditemi quando esce No 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 Vai Ragazzi non esce allora Scusa Lu Che problema Che c'è Che ti è successo Dimmi Che ti fa Ok Adesso Adesso Che ti devo uscire Che ti devo uscire Che ti devo uscire Stai zitto Non ti disse Che Mamma mia Veramente Cosa serve Ma che ti devo uscire Io sono a casa oggi Cosa serve Avera Il blu a tutti Da Facciamo confusionaggini Blu Niente proprio Qua manca il blu Ma come fate a vederlo Qua manca il Ok Ma Come fate Blu 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 Qua ci sei già arrivato Blu Vedi che io li faccio il giro Tutti Tutti Già fatto tutti Perfetto Nice Ok Perfetto E qua è tutto collegato Ora andiamo a prendere Le furne Sbonte straschi E strospa straffia Andiamo 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 Che dovrebbero essere Chi ci le aveva Ah dovrebbero essere I news extruder Brava Joe Fai 877 barre Vado a fare 877 Ragazzi Chi ha preso Tutte le fornace Che c'erano qua I vulverizer Eeeh C'è in mano te No ma io c'ho Il news extruder Ma tutti Non mi dite Che c'era qualcuno Nel inventario Perché oggi Piccio quella Non è che può essere Pure che è Ulisse C'è la Ulisse Ragazzi C'è la Ulisse Nel inventario Nice Nice GG A Ulisse E' tutti i vulverizer Joe Madonna No No Tutti Aspetta Vediamo se si sono Svuotati dentro casa Spera Spera Erano 11 Erano 11 Spera Vediamo El Sali El Sali No Quanto te fa Ciao Ulisse dentro Eeeh No Non ha il pulverizer Eh raga Ce li facciamo Eeeh Tare E poi Li bruttiamo Quando entra Ulisse Eh per forza Per forza Che se no Non possiamo andare avanti Qua eh Di certo Non li ricraftiamo Vabbè Ricraftarli che già Ce l'abbiamo Che senso ha Solo che manca uno Però Però Una cosa Marotti i coglioni Eh Ebbè Abbastanza No bisogna sfruttarsi l'inventario Almeno comunque i macchinari Lui dai vieni qui Lui Qua dentro Qua dentro Grazie Ma quanto ce n'hai del cibo Grazie Prego Ok Ma Ma hai chiuso dentro Oh zero Ci sei Chi è che le prende con la Ney Ce l'hai nell'inventario tu Ce l'hai nell'inventario Ragazzi abbiamo preso Il pulverizer con la Ney E quando arriverà Ulisse Gli faremo buttare Perché sta cosa Gli faremo il culetto Oltre al culetto Perché hanno rotto le scatole Di non svuotare gli inventeri Non troppo lontano Qui facciamo i barrel O sopra Che cacchio dici Xander Ma ti togli dalle palle Due, tre Guarda miseria Mi hai fatto anche sbagliare Cioè dai Dai da la vinciare Frencio 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 Ma se ci mette otto anni A prenderla Frencio One, two, three, four, five, six Six, seven, eight Seven, eight, nine Ten Eleven 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 Ilaria No Eleven Ma qua non l'hai fatto asimmetrica Ragazzi abbiamo sbagliato Togli il primo Xander E togli l'ultimo Ah è vero perché due vanno Morta Ok questi sono gli undici pulverizer Ora togliamo tutto l'ambaradab Mamma mia Ti aiuto Lu Oh mio dio Ma se l'ho fatto io quelli della Con shift togli tutto Automaticamente Tutto insieme E infani No E salirò Lu Quanti parole Faccio Ma cosa Nice Attenzione Lu La smerdata in diretta L'importante è esserne convinti Daniel Arato 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 Minchia Stiamo registrando Che cazzo vai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Cacchio Ne Eh non Eh la facciamo così Guarda dai Ben Forda server Ti barra il faccio Una quarantina Allora Ora ragioniamo Ragioniamo Abbiamo i tubi Sì Ok In poche parole Ah mancano Le zoom Stranskier Ah anche Tanti quelli Eh Ci lasci Eh tu Sempre che Sandri C'è la Ragazzi Chi può Vere Cosa Il strudel Ma che cazzo No Non ce l'ho io Ma se ne racconti tu Un extrude Mi sa che c'è Gli Ma se lui Eccoli 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 Tenevamo Stai Calma Minchia Quanto S'ha citata Io Lu C'è Allora Questi Extrude Elexander Spiega Gli extruder Producono I blocchi di stone Che ci servono Da polverizzare Ti hanno capito Cosa fanno Perché ne mettiamo Uno ogni tre Perché producono Molto di più Di quanto ne consumano I pulverizer Ovviamente Nice E' allegria Per cui Diciamo che Un extruder Riempie Tre cose Di cobblestone Tre pulverizer Di cobblestone Molto più veloce Ok Giusto Siamo stati chiari Ora ci servirebbero Tre secchi di lava E tre secchi di acqua Per Andate Tutto qua Vado subito Vengo con te Vieni carissima Pazzoni Dalio Dalio Fino a quando Allora ricordiamo Ricordiamo Che L'injews Extruder Vanno con un secchio di lava Un secchio di acqua Senza corrente E solamente un secchio Perché E' come se lo facessimo La farm di cobblestone A mano Vedete presente Per cui non consumano Gio mi dai bar Giustamente 27 sono pochissimi Una trecentina Una trecentina Vabbè vado a far Gio vieni qua Vieni qua giù Acqua 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 Vado a prendere l'acqua Vado a prendere l'acqua Ulisse Aveva anche tre secchi di lava Non volevo dirvelo Aveva tutti i secchi È vero Aveva tutto Ulisse ragazzi No no ce l'ho io Ce l'ho io Un po' di secchi No i secchi di lava Eh Ok E' uno E' due Tenete Dammi Dammi un secchio No Arriva con l'acqua Arrivo con due secchi di acqua Ragazzi Allora questo qua Dovrebbe essere sotto Giusto Eh Gio E? Ti conviene No facciamo un po' di lava raga Perché mi sa che è finita Eh già l'ho messa Eh già c'è la cobblestone Sì l'ho messa Ah ok Vieni luca Dove lo metto l'acqua Ecco l'ha fatta l'ha fatta Raga l'ha fatta Dai Partito E' partito E' andato funziona Non funziona Mettine ancora Eh no 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 Non la mette Non la mette Fa consumare Prima Non so La pallina La messa La messa Ok vedete Come Come Gio Sei bene? Come viaggio? Ora C'è un piccolo Problema Perché hai messo l'output sotto a tutti? Ragazzi abbiamo sbagliato Come abbiamo sbagliato? Ora riprendete altra lava Fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe lavora come la pena mi tocca fare dall'alto ragazzi così guardate non è brutta basta che si è ordinato ha permesso permesso sander ti metti la trota sui attrezzi veramente di tucido oggi vado a fare altri barrel oggi le prende quella serve la eccola allora cambiamo tutti gli output mettiamo alistruder e il blu sopra no al rosso sopra l'arancione l'arancione vabbè è uguale ok ok e mettiamo l'azzurro sopra a questi qua bam bam ho sbagliato qualcosa vero no hai sbagliato solo l'arancione che lo sto togliendo il blu è giusto dove va l'arancione a destra qua no a destra a sinistra qua no a sinistra 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 no dove stai qua aspetta che stai facendo non escono no no così così questo cazzo di tubo è infatti guardate partito e sbabbam pete va nei pulverizer po di qua un po di là po di qua un po di là ci vuoi mettere può mettere a tutti i tubi il rosso se non sbaglio prova da meravigliosi già metà mi starò a messo il rosso ma stai taci va stai taci vediamo se si divide non è rosso allora il verde no non si divide si divide si divide perché questo è pieno anche pieno sì ma niente ok allora rosso di qua rosso di là bel tempo si spera buon tempo si spera mettiamo il blu a tutti mettiamo il blu sopra tutti ragazzi io fermerei un attimo tutto quello che stiamo facendolo perché perché mancano le facce ai macchinari non possiamo mettere energie dobbiamo spostarli non so giusti poi manca la faccia e macchine ma che stai dicendo è dove la metti l'energia da sotto ah ok ho spaccato la mela non mi va e come le mele allora sotto metteremo l'energia ok ora bisogna fare qua il rosso davanti no non è questo l'arancione scusatemi no no è a sinistra l'u e beh dillo prima no dammi la mano fallo allora vai tutto l'arancione perfetto perché sarà l'uscita bang bang ok l'avete saltato uno l'ultimo arrivano altri 12 barrel ok perché abbiamo messo questi due pulverizer ragazzi in poche parole la cobblestone pulverizzata che fa fra gravel fa la gravel e che poi va nel setaccio e trovare sia la gravel che la sand ecco ok ora mi date una cesta per favore ragazzi una semplice cesta e vado a farlo aspetta aspetta ce l'hai ora perché poniamo una cesta qua al centro io c'ho gente che mi grida in casa bene perché non sei l'unico verrà messa tutta la cobblestone lì dentro poi verrà presa e ma c'è pulverizzata no no allora la cobblestone fa la macchina 100 per cento gravel e la piccola percentuale sand che noi mandiamo tutto all'interno di questa cesta è d'accordo no? ok ora noi grazie a questi due pulverizer 1 e 1 14 ok manderemo qua dentro la sabbia ok non puoi mandare la sabbia dentro perché la sabbia pulverizzata fa anche la dust no scusate mi mandiamo un po siccome di gravel ne avremo veramente tantissima un po di gravel andrà all'impianto e un po di gravel la manderemo ancora nei pulverizer perché la gravel nei pulverizer pulverizer fa 100 per cento sabbia è una piccola percentuale dust per cui avremo grave il dust e sabbia anche per ricordo noi dalla sabbia e dalla cesta facciamo in questo modo ok ora ragazzi mi servirebbero un bel po di pneumatic vado a farle lui senti una cosa qua non entra la cobblestone o non è ancora messa dove non entra la cobblestone ecco qua vado a fare il pneumatic perché non c'è perché non c'è l'output sopra c'è uno io quasi te ne servono lo togliendo quello di cip 12 12 12 12 12 13 vediamo hanno passato uno alu metto e allora mette serve una mano giova a cattare mi serve vetro più che altro è vetro vetro adesso vediamo se ce l'abbiamo che preoccupare che il e scavagliamo tutto no grazie facciamo così va va che non basta ovviamente ok mentre voi fate un po' di problematiche già uno mi avete dato grazie facciamo qua quando volete venite così ve lo spiego arriviamo se no vi guardate il mio video vediamo se qualcuno ha sabbia 1 e 1 2 ok vedi qua poi c'è l'uscita facciamo passare da sotto da sotto ragazzi ho fatto già l'ambaradam ora scenderò con l'acqua a mettere altri tubi però aspetto Xandri in portare i tubi arrivo subito allora intanto qua è tutto pieno come notate ora quando daremo corrente che qua uscirà della gravel e della sabbia andrà tutto all'interno di questa cesta questi due pulverizer devono richiedere la gravel ora quando Josia presterà a portarmi pneumatic serbo da quattro giorni tala lunga tala lunga tala lunga manca tutto il vetro tala lunga ci copri copri eccola ci copri 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 ecco la arrivo aspettalo dietro la porta aspettalo dietro la porta mi chiude le porte vai quanti ne fatti 17 le cazze con l'impianto fa da schifo allora guardate ne mettiamo uno sopra bam e uno sotto bam per quale motivo ve lo spiego allora tasto destro mettiamo white list e mettiamo un pezzo di gravel ce l'avete una gravel bravissimo e anche sotto gravel bam però faccio io faccio tu ora questi due raccoglitori quali chiederanno una gravel mi dite quando esce davanti il rosso ok davanti davanti no davanti ragazzi vai 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 è davanti qui dal nostro lato sì ecco l'arancione l'arancione perfetto arancione arancione bam ok posso togliere l'acqua mancano i tubi di xan no 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 eh sta sfondendo sta succedendo lo stagno dobbiamo aspettare ok l'acqua osserva Luke non l'abbiamo team ho inventato la tolgo l'acqua l'acqua ok no abbiamo metto la sotto l'acqua ragazzi adesso il casino se quale è spaccare sotto vedete che faccio mi faccio la pedana se mi fate scendere faccio la pedana vai buttami l'acqua qua che mi ha subito ma la rischio vado vai oh ah beh ciao ok sto facendo i lingotti ma ti sei svuotato almeno no no dai no l'ha già fatto ho già fatto il primo gradino ragazzi togliete l'acqua togliete no no non togliete l'acqua togliete l'acqua togliete l'acqua togliete l'acqua tolgo oh grazie facci qua un gradino facci qua un gradino no devo togliere tutto qua tanto ok allora adesso metteremo i tubi di corrente da sotto ok faccio un attimo la passa da la passe d'ana faccio ok arriva i dubbi io sicuramente cado ragazzi me lo sento no 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 la legna cosa ti serviva eh mi servirà dopo tranquillo ok due stack di legna rossa ora mettiamo i tubi qua sotto bam 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 si si sto arrivando guardatemi ok perfetto hai paura che cadevo eh si arrivano i tubi arrivano i tubi dove sei dove siete ok qua lasciamo aperto perché tanto dovrò riscendere dopo ok dammi tu ecco lì ecco lì ti lancio da sotto perfetto ragazzi altra acqua vai ci può metti in mezzo metti in mezzo iniziano a scattare questa è l'acqua lì è l'acqua che scende allora uno no ha sbagliato eh ma è un casino toglierlo no ha tolto ha tolto no con la branch li hai persi due oh sto morendo come stai morendo sali 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 mamma mia ma salta sul tubo l'acqua levate l'acqua ci arriva da qui ci arriva ci arriva ah ci arrivi così no devo fare una cosa fermi mamma mia allora allora deve scendere da sotto perfetto eh facciamo così ragazzi tranquilli tranquilli mi state agitando allora qua prima di tutto devo andare così bam e sbam ok e ora devi passarmi anche da sotto però come fai? è da qua da qua fammi un buco qua perché ho fatto questo? perfetto perché? perché almeno la sand va ragazzi perché di qua ci sarà anche sand e la sand andrà direttamente sotto bam e va nell'impianto perfetto? perfetto e da qua invece uscirà tutto il contenuto ora una cosa importantissima ragazzi è mettere il serbo a tutti questi qua ok uno due tre quattro aspetta che faccio ok ragazzi vi spiego subito andiamo nei primi tre nei primi tre andiamo nel serbo ossia la sabbia che la dust e ascoltate nei primi tre andiamo nel serbo e mettiamo la dust eh scusatemi la la gravel la gravel gravel anche qui white list ricordatevi eh io già me l'ho dimenticato white list white list e white list gravel la gravel la mettiamo anche a questi tre perché tanto di gravel ne avremo un abizzef qua manca uno vedete? non mi era accorto gravel anche qui gravel anche qui questa è la parte più stronza eh si gravel anche qui perfetto ora in questi due faremo un blocco di dust e un blocco di sand tieni sand e tieni dust allora andiamo qua e li mettiamo la sand che non ce l'ho però non ce l'ho ok aspetta aspetta non me l'hai lanciato a me vaffan bagno se vi spostate magari la chiappo io ragazzi sand allora questa dust dust cavolo ragazzi è perché ma perché cazzo ammani nude lu ammani nude lu ma ce la faccio ma ce la faccio dust ok e dust anche di là e dust questo qua a destra ora mi manca la sand mi sto rincosionendo tieni la sand lu lu dai preso sand 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 bella nice ragazzi abbiamo finito l'impianto ma ora andiamo su andiamo su andiamo su andiamo su andiamo su andiamo su mi manca il vacuus non dimmi che ce l'ha pure quello lì il vacuus raccoglie in un raggio 3x3 vi faccio vedere se noi lo mettiamo al centro e butto qualcosa al primo guardate 1 2 qua già inizia a non raccogliere più perché 3x3 ecco perché noi abbiamo fatto quella forma che è la forma standard che fanno la maggior parte degli americani al mondo ok americani con la maiuscola perché poi sono gli italiani che fanno i figli infatti la senta io non è vero ragazzi è quello che fanno in base tutti gli americani ma non perché lo fanno gli americani perché loro sono fighi e loro possono no è semplicemente perché è così l'impianto punto ci sono altri modi ok la cesta non la mettiamo perché noi metteremo i tubi ah giusto ok mh vai bam 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 ebbene ora noi metteremo la cesta per forza mettete un paio di cesta ragazzi per il momento perché poi dopo faremo una cosa un po' più figa poi qua facciamo tasto destro andiamo in quello sotto e facciamo sopra così sbam chi è? in modo che la colla ho messo il pistolino raga quilla ma che cazzo fa? è lui è ma è uscito ok ragazzi state capendo quello che sto facendo? si si ho capito non hai messo il pistolino sulla hopper l'ho messo te l'ho messo dove io non lo vedo dove è c'è? non c'è non c'è non c'è ma dove lo vedete ma che dite ma riga è nella casa siete cercati veramente guarda che non c'è eh allora sei buggato io lo vedo tu lo vedi Gio? ma è quella parte rossa nel tubo no è un coso che collega la hopper col tubo le ceste la hopper è staccata no non lo vedo io anche io ragazzi venite qua venite qua che vi spiego avete messo le ceste sull'hopper? eh no sto cercando legna non so chi ce l'ha allora ragazzi un gg per l'impianto ordinato ora vedremo se funziona logicamente oh due ceste madonna vabbè lo faccio con questo dai sì sì con il ligno a parte a me serviva la legna anche sotto non me l'avevi tirato eh io ce l'ho io eh allora Gio dimmelo che c'è la legna fallo le loro le ceste tieni lui prenditi la legna che ti serviva vado a mettere le ceste no non quella rossa schifosa eh non ce n'è normale è lo schiavo vabbè la facciamo dopo se lo schiavo fa qualcosa magari dammi quella rossa che ci faccio le ceste le ho già fatte le ceste tieni dove devi metterle dammi la ceste tutto stronzo arrivo arrivo dai mettete le ceste sopra ce ne hai tu ce ne hai tu ma ce l'ho io eh perché lui c'è l'alimentario pieno non ce l'ho ragazzi io eh sì sì metto io va bene va bene no non attaccateci è solamente per adesso sì va bene attaccate eh tanto non si riempie perché la terma la considera divisa canta Cleopatra na 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 ragazzi andiamo giù ad attivare tutto scendete andiamo 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 e i redstone qui così venite qui se li ha già lui ora qua li mettiamo l'arancione il rosso scusatemi ora se io ok ok sta arrivando ok è andato arriva la corrente e comincia a fare il tutto ciò vediamo se funziona è partito è partito sicuramente sicuramente tutta la gravel che arriva la manderà in questi due pulverizer una volta i pulverizer sono pieni la gravel in eccesso andrà sotto girerà e andrà direttamente all'impianto scusa tanto non abbiamo collegato questo qui alla corrente ma infatti un attimo se vi fermate facciamo vedere che arriva intanto un attimo oh troppo casino fate ragazzi fate troppo casino sta arrivando per il momento faccio così poi la sposteremo fuori cioè la metteremo sotto ok guardate dovrebbe arrivare quella sotto si è arrivata ora arriverà a 64 riempila quello sopra quando è pieno quello sopra quella in eccesso andrà sotto guardate guardate che c'è anche la sand la sand la sand la sand dovrà andare sotto guardate ora dovrà partire la sand e andrà sotto dovrà partire la sand e andrà sotto perché la sand non parte non se la chiama ah lui ho messo la sand vuoi vedere che questo qui quando abbiamo questo qui è il tubo centrale qui abbiamo gli abbiamo messo la gravel quindi non vorrei che richiama la gravel eh richiama la gravel quindi dovremmo farlo qua sta portando soltanto gravel sotto no aspetta perché non parte la sand perché sono troppo vicini questi tubi vuoi vedere guardate intanto la gravel che è giusto quella in eccesso passa sotto e va direttamente lì e fin qua ci siamo perché non parte la gravel della sand e adesso dovrebbe partire ecco infatti no parte no secondo me non parte perché non fa in tempo no ecco è partita si no non faceva in tempo ragazzi capito che succede troppa gravel no 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 bravo troppa gravel e non fa in tempo a partire la sand come si può aumentare qua non si può mettere due ceste scusatemi dovremmo mettere la stack ok no l'unica soluzione è aspettare che si riempie tutta la gravel e poi prenderà tutta la sand ok la sand un po' è partita perdere i minerali ragazzi non perdere i minerali se ti togli se ti togli magari comunque ragazzi funziona ora l'unica cosa è chiudere qua ah perdere i minerali perché è piena la uppe no ho sbagliato scusatemi perché sopra non c'è il pistolino non c'è il pistolino sulla uppe è quello che vi ho detto prima infatti è riempito veduto che c'è la legna vabbè ci sono pure i tubi ma vabbè andiamo sopra ragazzi andiamo sopra a vedere guardate levante perché non raccoglie perché il pistolino non c'è perché adesso perché non avete messo l'altro pistolino raga quale altro è solo quello sotto che vi ho messo scusatemi raga la wrench sul coso può essere no non c'entra niente la wrench ragazzi avete combinato un qualcosa raga non avete messo il pistolino lo metto io lo metto io ecco ma guarda che c'è il pistolino no non c'era adesso l'ho messo quindi neanche io lo vedo adesso adesso l'ho messo e vedi che lo toglie ma guarda che l'ho visto ragazzi vi state fermi questo è perché toccate le cose in 49 no oh ora sono pieno logicamente va bene va bene va bene va bene e che cavolo Willa me lo dai eh c'eri pieno per quello tocchieri ora raccoglie deve salire beh aspetta che mi butto dentro quella roba che mi è rimasta che ho raccolto no non va su ragazzi va su ma avete mai sbagliato a mettere la cesta mi sa vabbè prima di tutto la cesta è doppia no la tolgo una ma ieri andava doppia come fatti la thermal non riconosce le doppie ceste ma se l'avevo fatto ieri riempie solo mezza ceste le considera separate era piena ieri comunque vabbè io la lascio fare a mezzo fuori dammela ma eh raga c'è ma l'impegno di roba eh sì qua c'era cesta ce l'avevo raga ma l'avevo raccolta io le cesta ma porca trota ma avete ritenele le palle però Willa ce l'ha Willa è sempre Willa eh mo nell'ho per le messe no no non le ha messe eh eh che l'ho per pieno no non parte è una cosa che non va ragazzi non sta funzionando il coso eh mh infatti ce l'avevi un pneumatic servo pneumatic servo pneumatic servo no ragazzi siamo coglioni siamo coglioni perché ok forse ho capito ok forse ho capito perché qua manca l'impulso vuoi dire che sto bastardo no buttati dentro non mi interessa vuoi dire che manca l'impulso Reddison ecco adesso è c'è ma vaffanculo 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 adesso si che va eh io cosa ho detto il tubo non è rosso il tubo avevo detto cifra l'avevo detto io io lo vedevo rosso ma ho spento eh si è perché non vuoi riconare la carica a posto quindi funziona quindi funziona che che mette la lattuga aspettate che si riempi eh si vabbè ho buttato di tutto intanto butto tutta la roba che avevo raccolto prima queste queste questo quindi funziona la grande sta funzionando guarda i minerali che escono no quelli sono i frammenti della sabbia gravel va e basta vai nice ragazzi gg funziona gg andiamo qui è quello abbiamo giù un diamante no chi è che ha ordinato la chest questo è per quanto riguarda la gravel ora andiamo giù stava per riempirsi spiegavo quella cosa adesso lo spieghi un attimo collego il tubo qua di corrente e dovremmo avere anche i sand e dust teoria si arriva la corrente inizia a cuocere nice e qua fa 100% sand e una percentuale la dust gg l'acqua l'acqua della fontana non ce l'avevo io comunque la di me gg funziona tutto comunque fatto adesso possiamo cominciare a progettare roba grande vai sand spiega no praticamente è semplicissimo guarda adesso ti svuoto tutta la parte sopra e butto la roba nella cosa guarda praticamente la thermal ha questa particolarità che non riconosce le chest doppie basta fare così la riconosce guarda no perché molto spesso se tu attacchi una chest doppia esatto con un tubo solo non riesci a capire che sono due però con due tubi con due tubi lo capisci vale tanto adesso la chest era provvisoria ragazzi perché faremo tutto in un altro modo anzi potremmo iniziare a farlo nel prossimo episodio ragazzi grazie di averci seguito un gg per l'impianto gg raga è venuto bellissimo un bacione in abbraccio è tutto perfetto guardate che sta nascendo anche la dust e la sand piccato sta uscendo anche glowstone sta uscendo tutto ragazzi siamo ricchi siamo ricchi limestone